Bentornato su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale. Grazie di cuore. Tornano a parlarsi il presidente francese Emmanuel Macron e la premier Giorgia Meloni. Questo atteso incontro, che mancava da mesi, si è svolto durante una gara di equitazione dei giochi olimpici alla reggia di Versailles. Invece di una cerimonia formale, i due leader si sono incontrati in una saletta allestita nel parco, dove l'informalità e la cordialità hanno dominato l'ambiente. Il presidente dell'Eliseo ha accolto la premier italiana con un abbigliamento casual, indossando una camicia e una cravatta. I due si abbracciano, ridono appoggiati ai cuscini di un sofà. Queste immagini raccontano una sorta di tregua olimpica, segnale di una possibile pausa nelle tensioni che hanno caratterizzato le loro relazioni recenti. Anche se presto per dire se le ostilità siano definitivamente superate, Macron ha definito l'incontro eccellente, Vraiment-Tres Bien. Le due delegazioni hanno riassunto in modo identico i temi trattati durante il colloquio, questioni bilaterali, politica europea e internazionale, con particolare attenzione alla situazione in Medio Oriente e in Venezuela. È possibile che abbiano discusso anche delle nomine dei commissari europei, un argomento su cui potrebbero avere interessi divergenti. Nonostante le possibili divergenze, il lavoro degli staff di entrambi leader indica un tentativo di riavvicinamento. Fonti di governo hanno precisato che l'incontro non è avvenuto nel primo giorno della visita di Meloni a Parigi a causa degli impegni di Macron fuori dalla capitale. Tuttavia, i colloqui tra i due entourage sono iniziati immediatamente e hanno portato a un risultato positivo. In molti si chiedono se i sorrisi e gli abbracci di Versailles segneranno l'inizio di una distensione nei complessi rapporti tra i due. Solo poche settimane fa, al G7 di Borgo e Ignazia, il gelido baciamano di Macron a Meloni evidenziava la tensione. «Conosciamo i nostri disaccordi», aveva detto Macron dopo la controversia sull'aborto. «Sbagliato fare campagna elettorale al G7», aveva replicato Meloni. Le tensioni includono anche la sfida per la nuova guida dell'Unione Europea, con l'esclusione di Meloni dal tavolo Macron-Scholz Popolari verso l'accordo per l'Ursula Bis. I disaccordi sono diventati più evidenti nel Consiglio UE e nel voto al Parlamento europeo, dove Meloni si è opposta a von der Leyen. Il G7 pugliese è ricordato tanto quanto la disputa tra Parigi e Roma nel 2022 sulla questione dei migranti. Su questo tema, recentemente, si è registrato un disgelo e una convergenza sul patto di stabilità. E voi, cosa ne pensate di questo incontro? Credete che segnerà una vera svolta nei rapporti tra Francia e Italia? Fatecelo sapere nei commenti.